Quando si parla oggi di crisi di rifugiati, crisi delle migrazioni, si tende soprattutto in una certa parte del mondo a pensare come se questa crisi fosse soltanto nei paesi ricchi, fosse la crisi di una massa di popolazione che si riversa verso dove c'è più prosperità. La realtà è che se si guarda le cifre che noi trattiamo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, i circa 70 milioni di rifugiati o sfollati, cioè rifugiati nei propri paesi che fuggono da conflitti, da violenze, da persecuzioni, da discriminazioni, il 90% di queste persone più o meno si trovano nei paesi poveri, si trovano in Africa, in Medio Oriente, in Asia, oggi anche in America Latina con la crisi venezuelana. Quindi bisogna ribaltare un po' questa percezione che è la crisi dei paesi ricchi. Questa è una crisi essenzialmente di poveri nei paesi poveri. Quindi dobbiamo concentrare gli sforzi per risolverla in primo luogo in quei paesi. Questo non esenta l'Europa dalle sue responsabilità, non significa che anche in Europa non dobbiamo lavorare perché l'accoglienza continui ad avere standard di qualità molto alti, ma dobbiamo ricordarci dove si trova il vero problema. I flussi di rifugiati che poi si mescolano a quelli dei migranti, questa è una delle grandi sfide del nostro tempo, questa è un'emergenza, questa commistione di diverse persone che per motivi diversi seguono le stesse rotte spesso nelle mani degli stessi trafficanti. Significa che dobbiamo concentrarci dove i flussi cominciano, nei paesi più immediatamente vicini alle crisi che ospitano molti rifugiati e poi lungo tutte le rotte. La Libia è un caso molto particolare perché la Libia è un paese di transito, ma è un paese di transito che è anche un paese a sua volta in conflitto. Questo è il punto fondamentale che spesso viene dimenticato. La Libia è un paese nel mezzo di una guerra non solo irrisolta, ma a volte sembra quasi irrisolvibile. Irrisolvibile perché la comunità internazionale politicamente non ha mai trovato l'unità necessaria ad aiutare il paese a ritrovare la pace, anzi la comunità internazionale schierandosi i vari paesi con una fazione o l'altra hanno peggiorato la situazione militare. E questo rende qualsiasi gestione dei flussi attraverso la Libia quasi impossibile. Noi continuiamo a lavorarci, noi dell'Alto Commissariato, dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, delle Nazioni Unite, delle ONG, continuiamo a lavorarci, ma non dobbiamo dimenticare che le sfide sono enormi, soprattutto in una situazione di semi-anarchia nella quale le bande armate che controllano vari pezzi di territorio sono anche quelle che sfruttano le persone in movimento, che le rinchiudono in questi campi che sono di fatto campi di concentramento, che abusano di queste persone e siamo alla loro mercè anche quando cerchiamo di aiutarle. Quindi una situazione estremamente disperata. Il ruolo dell'Europa nel far fronte a questi fenomeni è complesso. Io credo che sia un errore frequente pensare a questa situazione come una situazione che ha soluzioni semplici. Ci sono molte soluzioni a diversi livelli e sono tutte complicate. L'Europa dovrebbe essere più impegnata politicamente nella risoluzione dei conflitti. Questa è la causa principe dei movimenti di rifugiati. L'Europa dovrebbe diventare più strategica nel modo in cui usa le sue risorse per affrontare le cause economiche e climatiche di un altro settore dei flussi, spesso mescolato ai precedenti. L'Europa dovrebbe essere più presente lungo le rotte per aiutare i paesi a gestirle meglio. L'Europa dovrebbe riformare il proprio sistema comunitario di asilo, la propria accoglienza, il modo in cui gestisce le persone che non sono riconosciute come rifugiati. La lista è lunga. Il mio timore, la mia percezione è che l'Europa si concentra soprattutto sulla riduzione dei flussi. Io ero qualche giorno fa a una riunione importante di ministri europei nella quale sembrava che l'interesse principale fosse come possiamo ridurre ulteriormente i flussi. Ridurre i flussi non è la soluzione. Può aiutare un governo a sopravvivere a un'elezione, ma non risolve il problema alla radice. E se la politica migratoria, se la politica verso i rifugiati dell'Europa si riduce a negoziare paese per paese, imbarcazione per imbarcazione, dove andranno i 40 disgraziati che sono arrivati ieri sera, se questa è la politica migratoria dell'Europa, il problema sarà presente all'Europa ancora per molti decenni. Quello che in Italia si chiamano i corridoi umanitari, che in inglese noi chiamiamo resettlement, cioè reinstallazione di rifugiati da paesi in cui la loro situazione può essere fragile, verso paesi più stabili e sicuri, soprattutto i rifugiati più vulnerabili, è una soluzione importante. Non è una soluzione che può, di cui possono beneficiare moltissime persone, inevitabilmente i numeri sono limitati, ma uno, le persone più esposte, più deboli, più fragili, possono trovare veramente una via sicura verso la salvezza e il loro futuro. E poi è un segnale importante di solidarietà verso quei paesi che ospitano il 90% dei rifugiati e sfollati, perché oggi in Libano una persona su quattro è un rifugiato, se l'Italia, ma non solo l'Italia che lo fa attraverso i corridoi umanitari, ma anche altri paesi, dicono al Libano una piccola parte almeno possono venire da noi, è un segnale importante per continuare a incoraggiare il Libano a dare accoglienza a questo grande numero di persone, che per loro è un fardello considerevole. Le statistiche sono molto complicate, anche perché oggi le statistiche sono utilizzate da tutti a fini politici. Ci sono meno arrivi in Europa, è chiaro, rispetto al 2015, anche al 2016, molto meno. Perché? Le cause sono molte, molte e complesse. Ci sono certo più sbarramenti attraverso il Mediterraneo. La Guardia Costiera Libica intercetta centinaia di persone, ma le riporta in Libia, le riporta nei campi di detenzione, che sono poi quasi dei campi di concentramento. Quindi io capisco che ci sia un desiderio di gestire questi arrivi incontrollati, ma dobbiamo anche pensare alle conseguenze del tipo di gestione che se ne fa. Ora, per quanto riguarda i morti, i morti continuano. Sono meno in numero assoluto, perché le traversate sono diminuite. Sono di più in numero proporzionale, in rapporto a quelli che traversano, perché la capacità di salvare rifugiati e migranti in mare è stata ridotta drasticamente dagli ostacoli che sono stati posti alle ONG e ad altre organizzazioni umanitarie che si facevano carico volontariamente di queste operazioni di salvataggio. Io trovo questo intanto sbagliato dal punto di vista morale, chiaramente, umanitario. E credo che sia anche un indebolimento, un attentato direi, a uno dei principi più fondamentali del diritto internazionale. Salvare chi è in pericolo nel mare, chiunque sia questa persona. Non fa parte del diritto dei rifugiati o del diritto umanitario. Sta nel diritto del mare da 400 anni e noi stiamo snervando, stiamo indebolendo l'esercizio di quel diritto che è uno dei fondamenti della nostra civiltà, se lo posso dire.